Salve a tutti, non me lo ricordo più, salve a tutti per cui c'è un buc'è, ok, aspetta, salve a tutti, parliamone, esatto, parliamone, due parole È un debole per kat, non sto parlando là, sto parlando là, ok È un debole per kat mi sfida bambino È lo sciò, le logiche di capito zZZZI Sì, une… Giacco, quaracamine e quincitente e embody Sa che deve morire, ma non vuole farlo,े dobbino alla sua natura, sa che deve morire che ripetavo ma non vuoi qua riattacco perché sta succedendo una cosa invietante cioè Street Fighter nella vita reale cosa sta succedendo? io capisco i condomini strani tutte le possibili situazioni ma sono bambini però no, cioè dobbiamo chiamare il il VVF sto dicendo ragazzi parliamone Arya è figlia unica non ha mai avuto un fratello con cui fare la lotta quindi non lo sa come io avevo i cuginetti che ci scannavamo io mi scannavo altro che questo bordello io sbaccavo il muro la verità è che io e i bambini questa è la nostra rivisitazione degli abitanti degli abitanti i snaghi i snaghi i snaghi i snaghi grazie no no posso farcela posso farcela ho fatto boom aspetta fanno riferire che mi sa che ho cuore a tutti a parte che ho gli occhi mi piace giovane stilista di di talento di sto cazzo di sto cazzo di te la vita mi mancheranno quello che ho dovuto di fare anche il game Così ho fatto un po' di più a fare i miei agoni E' vero, serio? Ai 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 Ma non sei adesso, ferma, assaggirati, appiccina Non voglio stare Vai, facciamo così Bellissimo, sopra ci ho scritto all'azio Vado Così vai No, non mi fai dentro Qua mi metto Così Ma perché mi sono dislessica? Ma perché mi? Perché mi sono dislessico? Entra nel personaggio da adesso Che succede? Chiama Scorsese, poi giù Addirittura Cavaliere della tavola rotante Della tavola rotante Bellissimo La tavola non rotante Dai, ricomenta qua La sentite? Andando ammazzando qualcuno Cosa succede Cosa succede? Ciao Aspetta, aspetta Ok, non mi ricordavo come mi chiamavo Adesso l'abbiamo visto qui da mo' Non mi ricordavo come mi chiamavo In realtà, sapete qual'è la cosa? Cioè, io l'ho trovata in un malivolo E lei ho detto Ma la potete far uscire solo per farmi fare sta cosa? E loro ogni tanto la fanno uscire Il problema è un altro Io me la porto a casa e gli faccio fare Soffro di personalità multiple Quindi, in realtà, sono rotta da poco tempo Se uno mi chiede come mi chiamo Io dico Ermione Quella è la prima che ha sviluppato Quella che l'ha portata in manicomio Perché poi è andata troppo Cioè, la sua famiglia si è preoccupata Ehm, rimbomba Ehm, rimbomba Più che c'ho qualcosa di nuovo Che c'è il testo C'è il testo sulla massa Che ti riri? Ahahah Non lo so Shhh Non hanno il permesso di lasciare gli Hunger Games No Proprio per il loro ruolo di mezzo Ah, no, no Per il loro ruolo di mezzo Ci sono troppo Ero il tempo Proprio per il loro ruolo Proprio per il loro ruolo Ehm 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 Oh, mi perdono adesso Cos'è? Ho preso una droga Eh, sì Qua dentro Ahahah 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 Dove sto entrando anche il Genzo? Ahahah 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 Consigli per gli acquisti, ragazzi Comprate per un po' di crocs No brutto Ahahah 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 Grazie a tutti.